ciao ragazzi samuel di club six e come appena avete visto il lupo perde il pelo ma non il vizio in questo video dirò tre cose la prima se è possibile recuperare i soldi per chi li ha persi la seconda è che cosa arrischiano tutti quei promotori tutte quelle persone che hanno detto che hyper era un sistema della madonna il sistema è fallito sono scappati coloro i soldi che cosa stanno rischiando queste persone la terza cosa che vi dirò in questo video è tenetevi forte che il pelo no il lupo scusate non il lupo perde il pelo ma non il vizio ride perché hyper nation hyperfound state attenti ragazzi ne vedremo delle belle siete pronti via allora prima di tutto ci tengo a fare una precisazione ragazzi in nessun modo io sono contento di come sono andato a finire le cose perché il mio obiettivo non era avere ragione il mio obiettivo era avvisare le persone per chi non sapesse che cosa è successo è molto semplice ragazzi hyperverse riconosciuto in tutto il mondo come uno schema ponzi è effettivamente diciamo scomparsa sono scomparsi proprietari come sempre e soprattutto la gente ha iniziato ormai da due mesi a non riuscire più a prelevare i soldi significa che purtroppo moltissime persone hanno perso i soldi facciamo un attimo un recap allora prima di tutto come saprete se l'avete visto oppure ve lo dico adesso io ho fatto un video sei mesi fa in cui dicevo attenzione ragazzi hyperverse è una truffa è uno schema ponzi hyperfound è una truffa i proprietari sono dei truffatori perché sono delle persone che sono come posso dire già stati condannati a risarcire milioni che hanno rubato alcuni personaggi che sono coinvolti in questo gruppo sono famosi alla giustizia internazionale per aver fatto creato sponsorizzato schemi ponzi e quindi ragazzi state attenti allora la prima cosa che volevo fare con voi a vedere un attimo come era andato il video della volta scorsa perché diciamo che ci sono molti commenti divertenti ragazzi molti commenti divertenti tratto nero gaggius il mio consiglio è di eliminare il vino dalla tavola ogni volta che poi dopo devi fare un video hai ragione hai assolutamente ragione ciao rispetto alla tua opinione cosa puoi dire chi sta prelevando e guadagnando regolarmente che non durerà vabbè questo l'avevo già detto quindi lo sapevamo otti non sai neanche cosa stai dicendo sono due anni che si straguadagna hai detto una marea di cazzate in soli 12 minuti complimenti record mi fai tenerezza non hai capito niente ma proprio niente di quello che fanno pazzesco un altro video inutile morris togli questo video perché inutile ci sono un sacco di persone che stanno prelevando per te ve levo 320 euro al giorno studia meglio vai gennaro truffa sì 156 dollari al giorno da sette mesi antonio antonio come va con la ferrari tutto bene ridicolo i truffatori sono gente come voi che pubblica video a cac su un studia non è la minima idea di cosa può fare questa azienda io ho quasi investito due anni che mi sto su hyper messo 8 mila euro sono in profit le mie nuove linee ugualmente quindi lui ha portato nove persone sarebbe curioso di sapere piero come stanno andando queste persone che tu hai portato dentro perché tu hai messo 8 mila euro hai recuperato dici i tuoi 8 mila euro ma hai portato nove persone ho capito bene queste nove persone quanti soldi hanno investito e soprattutto sono riusciti poi a prelevarle quante persone a loro volta hanno portato perché se in totale avete messo 100 mila euro e avete tirato fuori 80 mila indipendentemente da come siano divisi magari 80 mila sono andati a te piero quindi tu sei felice ma gli altri 70 mila 72 mila che non hai messo tu li hai rubati a quelle altre persone questo questo sia chiaro adesso no 310 messaggi tutte recensioni negative fatti due domande che dici moltissime persone mi hanno insultato alcuni però dicono ok va bene avevi ragione poi nessuno l'ha detto il momento devo dire la verità non c'è un commento solo di una persona che mi ha detto si guarda effettivamente hai ragione tu ho perso i soldi la seconda cosa però perché molti hanno paura di ammetterlo questa secondo me è una cosa un po stupida ragazzi se i soldi sono persi sono persi poi ragazzi ci sono investimenti chi segue il mondo cripto luna quello che è successo era imprevedibile per quanto luna fosse un sistema comunque tenuto su diciamo in maniera poco stabile però non stiamo parlando di uno schema ponzi tipo hyperverse che garantiva il 10 per cento di guadagno io mi ricordo ragazzi e nove settimane che le cripto sono in negativo tutte quante eppure hyper continuava a pagare ha fatto due tre mesi a gennaio febbraio dove comunque le cripto erano in difficoltà che hyper continuava a pagare la gente era convinta che fosse possibile fino a quando poi naturalmente i soldi sono spariti e non è più possibile prelevare e prima di tutto ti chiedo di scrivermi nei commenti se stai riuscendo a prelevare perché magari tu sei quello tra quelli fortunati che riescono a prelevare per esempio i top promoter il livello mi sembra 5 di vip loro riescono ancora a prelevare cioè quelli che sono all'incima alla piramide continuano a prelevare i loro soldi sono quelli che sono in fondo alla piramide che non stanno prelevando quelli che hanno portato 50 100 200 malcapitati che hanno perso i soldi loro magari stanno continuando a guadagnare quindi è facile vedere che loro fanno video su youtube dicendo che va tutto bene la domanda è ma chi invece non ha portato nessuno sta riuscendo a prelevare scrivetelo nei commenti ragazzi sono molto curioso potrete recuperare i vostri soldi persi al 99.9 per cento la risposta è no ve lo dico già in maniera onesta ok è davvero impossibile che andrete a recuperare i soldi se recupererete i soldi se sbloccheranno i prelievi hyper vuol dire che hanno fregato altre persone però non credo che succederà perché non è il loro obiettivo visto che il lupo perde il pelo ma non il vizio stanno già lanciando qualcosa di nuovo l'hanno appena lanciato un paio di settimane fa poi lo vediamo insieme ok quindi mi dispiace ragazzi onestamente io non penso che voi possiate recuperare i soldi però c'è il secondo problema ma cosa rischia chi l'ha promosso perché molti dei commenti io li vorrei andare un attimo a rivedere allora velocissimi al volo c'è gente che dice guarda sono sincero sono dei numeri 1 io sto guadagnando un sacco di soldi via dicendo e sei poco informato e dato un sacco di fisserie c'è questo lorenzo magari lui ha portato tante persone su hyper io non lo so lorenzo è portato persone su hyper ok giovanni ben in casa è portato portato persone su hyper se queste persone che tu hai portato su hyper e c'è gente che ha scritto che ne ha portate tante queste persone hanno perso i soldi tu le avevi avvisato che avvisate che era uno schema ponzi gli hai detto che era un sistema rischioso gli hai fatto sottoscrivere un qualcosa com'è andata quanto hai guadagnato da questa promozione io non sono un avvocato ragazzi però chiaramente chi ha fatto questo genere di promozione è un po a rischio ok ho cercato anche su internet per cercare di capire se c'erano altri casi simili e devo dire che al 99.9 per cento non ho trovato delle informazioni reali cioè solitamente chi va in galera sono i capi dello schema ponzi e considerate che è difficile cioè riuscire a dimostrare che è uno schema ponzi non è così facile c'erano schemi ponzi o multi level marketing che sono andati avanti per tantissimi anni hyperverse lavorando nel mondo cripto e nel modo in cui era strutturato tutto senza avere una vera sede legale questo ve lo ricordate ho fatto i video non hanno una vera sede legale non sono una società registrata i personaggi fondatori chissà chi sono ok i veri perché non si capisce usano nomi finti di fantasia e via dicendo hanno tirato di mezzo moltissimi attori per gli ultimi video ultimi CEO e cose di questo genere sono tutti attori pagati perché non sono veri personaggi quindi automaticamente diciamo che chi è super in top alla piramide dovrebbe essere quello che rischia ma sono troppo furbi per rischiare ok ci sarà qualche pesce grosso qualcuno che magari ha promosso hyperverse ha portato 100 200 300 persone anche in italia che in questo momento non starà dormendo suoni tranquilli il terzo punto hyperverse in hypernation si ragazzi avete capito benissimo dopo che i personaggi adesso andiamo a vedere cioè la gente quindi ha investito in hyperfund poi ha cambiato nome quando fanno il cambio nome cosa succede? che un 20% perde i soldi l'80% viene trasferito in qualche modo a fatica quelli che rompono le palle quelli che li stressano non riescono a seguire fanno tutti i cambi difficili perché devi fare il passaggio di qua di là se non fai quel passaggio lì i soldi li hai persi quindi il 20% ha perso i soldi si passa il nuovo nome hyperverse ok dopo 5 mesi richiudono di nuovo fanno perdere i soldi e ne tirano fuori altri schemi solo che questa volta che cosa sta succedendo? sta succedendo che hanno deciso di far perdere i soldi praticamente a tutti ok li hanno bloccati i prelievi a tutti quanti però il lupo non può perdere il vizio cioè cerchiamo di chiarirci ecco che parte subito hypernation siamo su hypernation e hypernation che cosa sono inventati? guardate un po' cioè in pratica hanno messo personaggi finti che raccontano questa incredibile roba di questi nft e quant'altro devo dire la verità il video è bellissimo cioè è troppo futuristico hanno avuto un'idea geniale adesso hanno cancellato i commenti i commenti erano tutti ragazzi i commenti erano tutti quanti ciao come faccio a prelevare ciao non posso prelevare ciao voglio i soldi via dicendo e stanno lanciando questo strumento e poi guardate cosa mettono guardate questo CEO of GNX has a word for you prima di tutto il nome di questo personaggio non si sa non viene presentato in nessun modo via dicendo se lo andiamo a cercare questo sarà un attore chiaramente ma penso che non ci sia dubbi perché dico questo? allora perché vi voglio far vedere uno di quelli che è dei più grossi promotori si chiama Kalpish Patel famoso per essere un super scammer ed eccolo qua guardate super scam returns il ritorno dello super scammer Kalpish Patel è tornato con una crypto nightmare una crypto da incubo chiamata Hyperverse promettendo un 300% di di ritorno ma naturalmente poi è andato tutto quanto a fallire e per chi si domandasse eccolo qua con Rian su altro famoso hyper 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 scam ok qui ancora lui con altri personaggi dubbia utilità e via dicendo il concetto che cos'è ragazzi? penso che lo sappiate che naturalmente Kalpish Patel il number one top scammer in the world ha già truffato altre persone ed è anche stato 12 mesi in prigione in Inghilterra proprio perché ha fatto parte di altre truffe per 15 milioni di dollari quindi non è un qualcuno che è nuovo molte persone sanno che è uno scam ok anche persone che sono al top della piramide adesso che sta esplodendo tutto stanno facendo circolare le interviste o le video diciamo le zoom tra i vari fondatori o tra i vari promoter quelli di più alto livello che dicono ciao io ho dei problemi ok e quelli in cima alla piramide dicono no ma io riesco a prelevare senza problemi anzi ti faccio vedere così e tutti gli altri sotto ma a me non funziona però ci credono perché credono in questi personaggi che comunque gli hanno fatto guadagnare i soldi perché chi è in cima alla piramide ha guadagnato il discorso dello schema Ponzi è che chi è in cima alla piramide guadagna ragazzi ma il problema è ma come fai a guadagnare se sai che stai truffando stai rubando i soldi alla vecchietta che sta in basso alla piramide uno potrebbe dire ma non sono io a truffarli sono loro che hanno investito ma non è così se io so già che metto 100 e magari mi sono ritornati quei 150 ma io quei 50 li ho presi da quello sotto di me che ne ha messi altri 100 quindi 50 li ho presi io e 50 sono finiti dentro lo schema Ponzi non posso essere tranquillo andavo da questo mio amico e gli dicevo ciao mi dai 50 euro lui mi dava 50 euro ed era a posto con la coscienza me li regali e lui mi regalava quei soldi invece di andare a fare tutto questo schema è quello che io sto cercando di dire ragazzi quindi Hyper One Hyper Nation lascio a voi giudicare quello che succederà tra poco non dureranno ragazzi perché purtroppo Hyper Versa l'hanno fatta troppo grande ok quindi chiaramente questi schemi non funzioneranno riusciranno solo a raccogliere da qualche malcapitato però c'è da dire questa cosa che per loro truffare 10.000 persone perché è una truffa a livello mondiale ok 10.000 persone che mettono 1000 euro faccio fare voi la matematica non c'ho neanche voglia di pensarci ok però queste persone sono contente sono soddisfatte scappano e poi uscirà fuori Hyper Two Hyper NFT Hyper di qua Hyper di là ok ragazzi allora aspetto tantissimo odio nei commenti come sempre mi insulterete direte che non è vero che non capisco niente che continuate a prelevare senza problemi e che gli unici che si lamentano sono gli account fitti su Twitter Facebook Tele come vi ho dicendo ok quindi lo so già cosa succederà fatelo non preoccupatevi non avrò diciamo appena avrò l'opportunità e avrò la voglia mi leggerò i vostri commenti e li andrò a pubblicare su YouTube così insieme come la situazione ok però ripeto ragazzi questo ci tengo davvero a dirlo in nessun modo io sono contento di quello che è successo il discorso è ma io se ho cercato di avvisarvi gratuitamente senza motivo cazzo ho visto sta truffa mi contattava gente che diceva ciao io ho messo 10.000 euro qui ma secondo te è una truffa è certo che è una truffa li hai persi mi hanno insultato mi hanno detto tutto quello che volete e io cosa ci posso fare ragazzi io volevo soltanto avvisarvi questo era il mio obiettivo quindi io vi sto avvisando HyperNation e HyperOne saluto a tutti da Samuel di Club6 ciao ciao è il mio obiettivo Grazie a tutti.